Prendi il collo, stringilo, appoggiatelo bene tra la spalla e il tuo orecchio, piega le gambe, stai storta così ti fai male alla schiena, brava, piega le gambe e poi indietro come i grani. Per favore sono in coscienza, fai piano, guarda, tranquillo, metti la mano sotto, prendi bene la mano, prendi bene così al polso, no, sotto, prendi bene e stringi. Aiuto, sta scoppiando la macchina, lascia il fumo, sta scoppiando la macchina, aiuto, aiutatemi, aiuto. Aiuto, sta scoppiando la macchina, aiuto, aiuto, sta scoppiando la macchina, aiuto, 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 aiuto. Allora, vai, dottore, mi aiuti, dottore, no, 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 dottore, mi aiuti, dottore, attenzione, vai, tiro giù, piano piano, tiriamolo fuori, vai. Dottore, 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 se non ha preso bene la mano, prendi le gambe, trasciniamolo. Vai, 1, 2, 3, vai, mettiamo la testa, mettiamo la testa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai, ok. Posizione? Prendiamo, vai, prendila. Prendila. Ce la fai? Via. Vai. Prendila. Ok. Justatelo. Ok. Valutazione? Sì, vai, Paolo, togliere la testa rossa. Ma che adesso è comunitario? È polacco, eh. Con l'aria e ossigeno. Zayed Ban. Ma tieni, intanto... Con l'aria e ossigeno. Taglia, taglia. Taglia, taglia. Taglia, taglia. Tagliate tu. Vito, vado su YouTube. Vito, vado su YouTube. Vito, vado su YouTube. Tagliate i vestiti. Ok. Eccolo, c'ho io. Io, Marocco, io, Marocco. Io, Marocco, io, Marocco. Ma questo mi sembra l'indiano di quelli che lavorano per le strade. No, eh. È toccato? Sì. Così ce l'è messo. Ok. Allora. Torace. Spazio. 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 Prima l'ho messo. Ecco... Ho visto che il refil è in due. Il poltolale è presente. Presente. La pressione è 120-70. Ok. Ok. Allora, vediamo se ci sono emorragie. Non ce ne sono? No, no. Non ce ne sono, emorragie. Ci senta ancora, signore, ci sente? Signore... Ok, ci sente. Abbiamo tagliato, abbiamo tagliato, continuiamo con gli atti superiori. La gambe, riesce a amare? Ok. Ok, va bene, copriamolo, copriamolo. Prendiamo la metallina, mettiamo il ragno, chiamiamola la centrale operativa.